Siamo con Mr. Berardi del Mangone, sconfitta la sua squadra per 2-0 contro la capolista Bruzio Mucosenza. È stata una partita comunque che voi avete giocato a viso aperto sin dall'inizio. Qualche episodio vi ha un po' penalizzato, però avete costruito anche delle buone trame di gioco contro una squadra che ha tantissima qualità ed entusiasmo. Sì, è un po' come hai detto tu, però siamo un po' in emergenza, due partite, oggi ho dovuto inventare di nuovo la difesa. Siamo senza difensori di ruolo, dobbiamo solo ringraziare chi si è messo a disposizione. Naturalmente bisogna dare qualcosa in più, perché la prima categoria è fatta anche di grinta, di sacrificio e bisogna dare qualcosa in più. Comunque, anche oggi abbiamo giocato con 6 under in campo, quindi questo è un complimento alla Bruzio perché ha dimostrato di essere la prima in classifica, a qualità, a esperienza. Sta facendo un grande campionato. La squadra però non si è mai slegata, i reparti sono stati bene o male, sempre compatti. Magari è stata qualche distrazione, qualche momento che poi vi è costato carissimo. Se penso che ho preso due golle, uno da calcio d'angolo e l'altro da un rinvio del portiere, però la Bruzio mi ha meritato di vincere, ci ha messo qualcosa in più di noi. Siamo un po' carenti anche sotto porta, non mettiamo il giusto atteggiamento. Questo Mangone comunque è ancora lì al ridosso della griglia play-off, è una squadra che ha dimostrato comunque di voler giocare. Io ho visto il tentativo di fare un gioco attraverso dei fraseggi, delle triangolazioni. Certamente il lavoro che sta facendo non è da buttare, si può solo migliorare perché ancora comunque mancano tante partite. Se riesce a recuperare qualcuno magari la squadra può essere più competitiva. Speriamo di ricoperare almeno difensori di ruolo, questo è il nostro obiettivo. Poi io penso che se non gioca a calcio difficilmente riesci a portare a casa i risultati. Abbiamo 22 punti, abbiamo chiuso il girone di andata con 22 punti a un punto dai play-off, quindi è solo attraverso questo che riusciamo a fare qualcosa. Speriamo che i ragazzi si mettono sempre a disposizione, io li ringrazio sempre perché anche oggi abbiamo cambiato il nostro modo di giocare affrontando la prima in classifica. Un po' di attenzione in più e forse il primo tempo finiva 0-0, però è andata così. Con mister Franco Germano sicuramente una bella soddisfazione sia per il risultato 2-0 contro il Mangone che per il gioco espresso dalla sua squadra perché molte volte una capolista è bloccata un po' dal nervosismo, a volte si sente un po' troppo la tensione, invece ho visto una squadra che ha pensato sempre a giocare a calcio ed ha corso e rincorso per 95 minuti. Sì, hai detto bene, noi se vogliamo rimanere in destra alla classifica dobbiamo giocare con questa intensità altissima e dobbiamo cercare di sviluppare quello che facciamo durante la settimana. E' chiaro che essendo prima in classifica poi tutte le partite diventano difficili perché ti aspettano tutti, perché ti vogliono vincere, perché siamo ancora l'unica squadra dei nostri gironi imbattuti e quindi è così. Dobbiamo ogni domenica, adesso vanno a diminuire le partite, dobbiamo fare di tutto per continuare questa marcia, per rimanere in destra e cercare di vincere questo campionato perché per noi è importantissimo. Un gruppo compatto, i ragazzi che sono entrati hanno dimostrato subito di avere tanta voglia, secondo me è stata una delle partite dal punto di vista anche mentale migliori del suo team. Sì, indubbiamente è un gruppo fantastico perché io al di là che ho 27 elementi a disposizione hanno capito la mentalità che bisogna avere per vincere il campionato. Nel senso che chi entra entra deve veramente sudare la maglia perché bisogna portare a termine questo campionato nel migliore dei modi possibili e il miglior modo possibile è vingerlo. Quindi noi siamo consapevoli della nostra forza, stiamo acquistando domenica dopo domenica una mentalità veramente vincente. Quindi è un gruppo che, come sottolineato tu, chi entra e chi esce fanno lo stesso lavoro di chi parte inizialmente titolare. A volte ho visto l'Abruzzium giocare con tre attaccanti di ruolo, altre volte con due, ma poco cambia perché con discreta facilità si arriva a costruire palle e gol. Anche questa volta Buongiorno ha fatto due gol, ma ci sono state almeno altre 4-5 nitide occasioni per battere il portiere avversario. Sì, al di là degli attaccanti di ruolo, per vincere le partite bisogna portare più uomini nell'area avversaria. Il primo tempo noi ci siamo divorati qualcosa come tre o quattro palle e gol nitide e poi abbiamo degli attaccanti, uno su tutti, Buongiorno, che è veramente un'arma letale per gli avversari. Non per niente l'hanno soprannominato l'immortale, quindi è veramente un ragazzo che si dà da fare. Gioca per la squadra, gioca per lui, gioca per me, gioca per tutta la società, quindi è un acquisto veramente azzeccatissimo. Vedere i tifosi cantare, vedere gli striscioni, vedere il presidente San Marra sulle tribune, questo è il giusto contorno di una bellissima domenica? Senza dubbio sì, assolutamente sì, perché noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi, abbiamo bisogno del nostro presidente, degli ultrà, poi si sa che questa è una squadra che ha sempre avuto a suo fianco i tifosi e noi oggi ne abbiamo veramente bisogno per continuare a vincere questo campionato, abbiamo bisogno di tutti, quindi è importantissimo per noi. Grazie. Grazie a tutti